Mattia Andreoli, oggi inizia una nuova stagione per la Sport Life, il campionato di Serie C, ma obiettivi ambiziosi a 360 gradi? Ovviamente, l'obiettivo principale è quello comunque di ingrandire il settore, portarlo a livello delle altre società che ci sono a Pescara, con sia il settore giovanile che con la prima squadra. Da oggi iniziamo un progetto che dura tre anni, un progetto che ci è stato permesso da Mattia, un grande allenatore della pallannuoto che ha portato una grande vittoria di categoria dalla Serie D alla Serie C. Oggi inizia con lui e con un grande professionista che ha scelto un progetto, ha scelto le persone, è un progetto, si rimette nuovamente in gioco come Mammarella, quindi noi siamo pronti a dire che la pallannuoto a Pescara oggi siamo anche noi e diamo il benvenuto a questo grande progetto che abbiamo studiato e fatto neanche in poco tempo. Sicuramente sarà una sfida importante. Ho sposato, come diceva il Presidente giustamente, in pochissimo tempo questo progetto, che è un progetto ambizioso. Dalla durata di tre anni, noi inizialmente dobbiamo creare le basi per far crescere tutto il movimento, a partire dalle giovanili e poi rivolto alla prima squadra. Credo e sono sicuro che possiamo fare bene, abbiamo tutto quello che c'è bisogno per lavorare bene, la struttura, la società, lo staff. Sono molto contento, un pizzico di emozione sicuramente perché nel giro di quattro giorni ho dovuto fare una scelta importante, ma ho fatto la scelta migliore sotto tutti i profili.